Bentrovati, bentornati, oggi parliamo di un'attrice che è nata il 9 giugno del 1981, è diventata famosa da giovanissima con il film Leon, pronunciatelo come volete, e stiamo parlando di Natalie Portman che è nata a Gerusalemme, quindi quando parliamo di messia non parliamo di profecie, niente, noi qui parliamo semplicemente forse del messia artistico delle donne nella cinematografia, ed è per l'appunto Natalie Portman. Natalie Portman sicuramente segna il suo cammino per l'appunto con Leon, e Leon già a quel punto della sua età era giovanissima, ci mostra come abbia potuto interpretare, abbia saputo interpretare il ruolo dell'attrice in maniera perfetta nella sua drammaticità già in quel momento. È un'attrice che è molto elegante, quando il ruolo di Padme per esempio, lei si addice molto questa eleganza, ma è capace di mostrare la sua... è molto verace, ecco, sotto alcuni aspetti quando si sa sporcare. L'eleganza la premia nel Cigno Nero, ma è la sua... quando si sporca, quando agisce distinto, che lei, ecco, si completa perfettamente. E Natalie Portman è tutto questo. Benché sia un'attrice che nel 2009 vince il premio Oscar proprio con il Cigno Nero, vorrei vedere chi avrebbe dovuto vincerlo, perché è assolutamente meritata quella sua performance, quel premio, diciamo così, anche il film, diciamo così, trasporta nella maniera corretta lo spettatore. E sicuramente lo fa Natalie Portman in ogni... in ogni anfratto della pellicola. Allora, la cosa più importante da vedere con Natalie Portman è sicuramente una. Che lei sì ha questa eleganza e nonostante, come dicevamo, il ruolo di Padme che lei va a interpretare abbia una certa eleganza, purtroppo nella trilogia non è che influisce molto. Nonostante ciò, potremmo dire che, effettivamente, la battuta più importante della trilogia prequel di Star Wars, di Guerra Stellari, la dice proprio Natalie Portman. È così che muore la democrazia, sotto scroscianti applausi. Ok, la trilogia magari è opinabile, mettiamola così. Nonostante ci sia anche Ewan McGregor, che io apprezzo moltissimo. Ecco, la trilogia è opinabile, però lei riesce a lasciare il segno anche lì, con una frase. Perché se mi chiedete, a parte lo scontro tra Anakin e Obi-Wan Kenobi, dobbiamo ricordare per forza quella frase, la più emblematica di tutte, la più importante, la più iconica della trilogia prequel. Quindi, anche lì, lascia il segno Natalie Portman. Che è un po' che non vediamo al cinema, attenzione, perché non la vediamo da un cameo. Pensate un po' in Avengers Endgame, dove va questa piccola parte con la scena di Thor che tornava nel passato. E molto probabilmente la rivedremo proprio al cinema, speriamo, speriamo presto, con Thor Love and Thunder. Perché sarà lei la nuova Thor, dicono i rumors, prenderà il posto dei Chris Hemsworth. E sarà molto probabilmente Lady Thor. Quindi vedremo un po' come riesce a mescolarsi un po'. Molto importante, abbiamo detto Lyon, perché lì è che cresce, si sviluppa comunque il suo modus operandi di recitare. E poi la vediamo anche in Zoolander, che fa comunque lì un cameo in vi per vendetta, con conosciutissimo film che ha avuto un grande successo, soprattutto il monologo finale più ricordato. Io non ho un ricordo preciso, davvero. Se mi chiedete in che scena è Natalie Portman, io non ve lo so dire, però credo che sia la coprotagonista poi alla fine di tutto. Ecco, oltre ai film con Thor, lo vediamo anche con la regia di Casey Affleck, Joaquin Phoenix, Io sono qui. Questo film, cioè, definirlo film è una commedia, diciamo, mettiamola così. Poi la vediamo in Jackie, con un film biografico, è sotto tanti aspetti. Però io, o sotto tante altre pellicole, però io, il ricordo principale che ho di Natalie Portman, non è nessuno di questi che abbiamo citato fino a questo momento, ma è Mars Attack. Allora, Mars Attack, probabilmente per molti, è il film più brutto che abbiano mai visto. È il film più brutto di Tim Burton. Io non sono d'accordo. Il film più figo di Tim Burton. Ragazzi, io adoro Mars Attack. La forma degli alieni, la struttura, la trama del cazzo. È un film veramente cazzone, bellissimo. Poi con un casting incredibile, c'è Jack Nicholson, c'è Danny DeVito, Natalie Portman, e poi ce ne sono tantissimi. Perce Brosnan, ragazzi, c'è di tutto dentro questo film e c'è di tutto prestato alla demenzialità. E io lo adoro. E mi ricordo di Natalie Portman per questa interpretazione, per prima non me lo ricordo per altre interpretazioni. Quindi è così che l'ho conosciuta, non con Leon, pensate un po'. Però Leon, io credo che i film è da vedere assolutamente con Natalie Portman. A parte per gli amanti di Star Wars, la trilogia prequel, magari la escluderei a priori. Però si potrebbe partire, come dico sempre, da Leon e da Il Cigno Nero. Il Cigno Nero che tra l'altro gli ha fatto conoscere il suo attuale marito, da cui ha avuto due figli nel 2009, per l'appunto stesso anno della produzione. Quindi è così che è nato anche un amore. Per il resto c'è veramente poco da aggiungere, perché Natalie Portman porta con sé un talento spropositato. Anzi, se volete sapere qualcosa e qualcuno vuole avvicinarsi al mondo attoriale, c'è un sito web che si chiama Masterclass. Potete cercarlo esattamente così sul vostro Google. Cercate Masterclass e lì troverete una lezione a un determinato costo di... Un determinato costo con Natalie Portman che vi fa la lezione e vi spiega un po' come ha vissuto la recitazione. E la sua recitazione nasce in un primo momento con il gabbiano di Chekhov per quanto riguarda il teatro. E questa è una cosa pazzesca. A parte che lei interpretava il personaggio di Nina, che è il personaggio protagonista femminile più giovane. E poi Irina, che era interpretata da Meryl Streep nel cast, quindi già abbastanza forte e importante. Lo ha messo in scena a New York nel 2001. Lei era giovanissima, era il gabbiano di Anton Chekhov e ha avuto un determinato successo. E' tornata, era stata precedentemente a teatro nel 1997 al box theater di Broadway con la produzione Il Diario di Anna Frank nel 1997. Ha partecipato anche a diversi videoclip, è produttrice, regista e sceneggiatrice. La vediamo come regista e sceneggiatrice nel 2008 con Eve, che è un cortometraggio fino a quel momento, con un episodio di New York I Love You del 2009 con Natalie Portman, che ha lavorato anche con Edward Norton. Edward Norton è un attore che sicuramente analizzeremo più in là, con Woody Allen. E' un po' un segnale lavorare con Woody Allen, ci lavorano tutti ed è molto importante poterci lavorare. E' quasi un tratto distintivo lavorare con Woody Allen. E' come se ti dà, insomma mettete il congiuntivo, non lo mettete, fate voi. Comunque riesce a relazionare tutti i più grandi attori, a metterli in scena in maniera forte, concreta, precisa. Woody Allen, nonostante nel corso del tempo si sia un po' perso rispetto a quello che aveva fatto negli anni precedenti, io comunque continuo a dire che lavorare con Woody Allen sia uno dei punti più alti della carriera di ogni attore, indipendentemente dai premi che si possono andare a vincere. Ditelo a Owen Wilson, che probabilmente gli ha salvato la vita essere diretto da Woody Allen, soprattutto per l'interpretazione di quel personaggio. Poi la vediamo con Sognare e Vivere, sempre come regista e sceneggiatrice, nel 2015. Ha partecipato a diversi videoclip, tra cui uno di Paul McCartney e uno di James Black. Questa è Natalie Portman, più o meno, più o meno, perché veramente ci sarebbe da dire molto molto altro di più, però noi siamo molto brevi e coincisi. E quello che vi posso dire è che Natalie Portman non è né il passato né il futuro del mondo cinematografico mondiale, ma è proprio il presente, il presente che si manifesta e si manifesterà ancora nel corso del tempo, degli anni e chissà. Per quanto ancora, grazie e ci rivediamo in un nuovo podcast o in un nuovo video, se vi state vedendo. Ciao!